Musica Ciao a tutti ragazzi sono Carmine e benvenuti a un nuovissimo video di piccoli Pixel Gun Oggi ragazzi dopo un bel po' di tempo che non ci giochiamo siamo tornati finalmente su Pixel Gun Questo gioco che come Brawl Stars anche mi sta piacendo Oggi in questo video Avrei deciso di fare qualche battaglia perché Qua nelle missioni c'è solo questo perché è stato aggiornato Però questo lo andremo a vedere in un prossimo video perché ora non lo so cosa bisogna fare Lo capirò meglio Oggi quindi ci andremo a giocare delle battaglie Ovviamente con la nostra skin da zombie Perché i minigames purtroppo sono finiti Sono finiti che sono stati aggiornati E quindi Allora quindi Ci equivogliamo la nostra arma preferita Ok E prima di iniziare ci andiamo ad aprire anche l'uovo Ehm Ho aperto Un po' Dove è stato? Dove è stato? Dove è stato? Pezza Eh Nooo Che carino RAM Ancora Nooo Il panda Raga No Ancora Ah no Ok Il panda Pensavo Per 70 monete Che carino Ancora No Ma va il cinghiale Ragazzi Abbiamo un sacco di animali Ah no Batte il nostro pipistrellino Lo sapete già Lo utilizziamo sempre Prossimo No Parrot Ancora Il gattino Ma qui cosa c'è? La La puzzola Ragazzi Ma ci stiamo comprando tutti gli animali Lo struzzo anche Quanti ne abbiamo? Quanti ne abbiamo? Ragazzi Però non mettiamo sempre il batte Portiamoci noi un altro Tipo Che ne dite del Del panda? Prendiamoci il panda vai Mamma mia Bellissimo Ragazzi Andiamo Ci scegliamo una modalità Vediamo Questa Atlantis Vabbè si dai Battle Royale No vabbè Facciamoci sempre le nostre Dove era? Dove sarà la modalità che abbiamo scelto? Perso la modalità Perfetto Ragazzi si è perso la modalità Ah no eccola qui Eh andiamo ragazzi Quindi Vediamo come va a finire questa battaglia Allora Un poco Va? You get it Ok ragazzi Andiamo? Andiamo Andiamo a ducinare Perfetto Ah ma questa è una partita già incominciata No Dove siete? Maledetti Io e il mio panda Vi distruggiamo Ok È morto Dove state che mi sparate? No Cos'è sto coso? No 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 Non abbiamo preso copertura Però Dice a 7.30 E mancano ancora un po' di minuti Prendilo Sprega tutti i colpi Ma basta che lo prendi Dai ragazzi che lo uccidiamo Dai ragazzi che lo uccidiamo Muori No L'ho ucciso l'animaletto Sono scarsissimo Ah ma perché Ma ci devo fare l'abitudine Da una vita che non ci gioco Speriamo che lo l'hai caperto L'ho ucciso Benissimo 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 Che ho uno dita Ragazzi Il mio panda Panda Distruggili Eh sto morto Ok Prendiamo quello Cecchina No Ancora vivo Dove stai andando Tu Cecchinata in testa Ricupera i colpi Ma dove vai Ti prendo Ti prendo Ti prendo Ehi E muore Con una cecchinata Di Carmine Saltiamo Esce No il mio panda Sta Quasi morto Uccidetelo Uccidetelo Ok Attenzione Questa è il nostro spawn Siamo 24 a 38 Manca un minuto Non so se ce la facciamo Nel frattempo Cerchiamo di prendere questo Che sta sparando in aria Tieni Prendi Prendi No Prendi Ho 0 colpi Raga Dobbiamo andare a cercare colpi E non dobbiamo morire Copertura Copertura Però mi sa che siamo morti No Vai panda Ammazzalo No il gatto Il gatto Il gatto Il gatto Il gatto No il gatto No il gatto Non ho più colpi Ragazzi Da demico No Ho lanciato per sbaglio La granata Ragazzi I colpi I colpi I colpi I colpi Perfetto Altri Altri Perfettissimo Però Nella partita Mi sa che È persa Beh va perché Non c'era il mio intervento Dall'inizio Eravamo già A un punto di Beh Finisce qui Questa partita 44 a 27 Perdiamo 5 coppe Ma Non fa niente Tanto Ho fatto due kill Bellissime Poi bellissime E ci venite Avevano due soldini Perfetto Il nostro Il nostro premio E ci facciamo Un'altra battaglia Ovviamente Perché Ok Adesso siamo 0 e 0 Quindi ragazzi Possiamo giocare Dall'inizio Con calma E c'è Uno rosso Però non dobbiamo Attaccarlo Perché Animaletto Di quello là Ah panda Vieni 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 panda 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 I rossi Sembrano un po' Il dominio Uccidiamoli Uccidiamoli Marite male voi Marite male All'inferno No Se ve l'ho ucciso Carmichè Ve l'ho ucciso Ma poi il muore Bellissimo Siamo due a tre Ragazzi Stiamo perdendo Stiamo perdendo Attenzione Ammazzate qualcuno Uccidete qualcuno Carmine Ammazza Se ve il tuo intervento Carmine Uccide quello Uccide quello Uccide quello Quello col pinguino Ammazzano dai Prendilo Dai che deve morire Deve morire Dai raga Ammazzatelo Quanta vita tiene Dannazione Ah E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto Viene un po' Il mio panda Sei Ecco di qui Stanno vincendo Sempre loro Raga Sta cosa non è buona Ammazzatelo Ammazzatelo Ammazzateli Ammazzateli raga Abbiamo gli ultimi colpi Ammazzate questo Sono morto Ok raga Un altro po' di colpi Ma Qua non va bene Stiamo perdendo 8 a 5 Raga ma mi devo prendere Ancora l'abitudine L'abitudine Dei controlli Perché Secondo me adesso È difficile da comandare Perché non ci gioco Da un sacco di tempo Ammazzamolo L'ho ucciso io? Sì Mi sa di sì Per forza Se non l'ho ucciso io Chi l'ha ucciso? Ragazzi Call Sì Ed è morto 7 a 9 7 a 9 7 a 9 Ok Ammazzate 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 No raga Siamo morti 10 a 10 Si ritorna in parità In parità Ragazzi andiamo in vantaggio Secondo voi Andiamo un poco Sì Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Perfetto Siamo in vantaggio Però raga Non posso morire Perché altrimenti Rimanno in vantaggio loro Eh appunto 11 a 11 13 a 12 Incredibile Passano in vantaggio Carmine Da lontano Prova a cecchinare Muoiono 14 a 12 3 dividiti Carmine Carmine prova a prendere Un po' da lontano Pare Prende Attenzione Muore Un altro Però Carmine muore Ovviamente 16 a 15 Ragazzi In vantaggio Di una Kills Prendiamoci La cura Che però Non ci serve Sempre in vantaggio Di una Kill Ragazzi Attenzione Lì Attenzione Lì Raga 17 a 17 Il cane Di questo Panda Attaccali No raga Stanno vincendo Ragazzi Ragazzi 18 a 18 Perfetto Perfetto Ammazzate 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 Non mi fate morire Amici No No 20 a 18 Ok 19 a 21 Annazio Che Che palla Che si qua Ok è morto È morto 20 a 22 20 a 22 Colpi Colpi Chi è No aiuto Raga Aiuto Si l'ho ucciso 22 a 23 Aiuto Aiuto Ammazzate Questo Raga Ammazziamo Raga Ammazziamo Sì 24 a 23 Ah no 24 a 23 Ancora Siamo ancora Perdeno Non ti farà ammazzare Ok 24 a 25 Raga 14 secondi Dai No Raga 27 a 25 No 26 a 27 27 a 27 28 a 27 E vincono All'ultimo E vincono All'ultimo Mamma mia Ragazzi All'ultimo Stavamo perdendo Di due Ragazzi Ritorniamo Al menù Mamma mia Che partita Combattuta Questa è stata Combattuta Vabbè La prima L'abbiamo persa Perché Noi non l'abbiamo Giocata Dall'inizio Cos'è qua Non lo so Cosa Dobbiamo andare Togli qua Lobby Ok Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto La Cosa è questa Ah è la classifica Ok ragazzi Siamo decimi No In verità Siamo decimi Undicesimi Perché siamo Dalle cose a questo Questo qua A questo Signore Ok ragazzi Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel Mi piace E un commento Per questo video E Supportate la serie Di Pixel Gun Oggi Siamo andati a trovare Un sacco di animali Ragazzi Guardate qua Un sacco di animali Abbiamo Il parrot Sarebbe il pulcino Il cat Il cinghiale Il mini Cioè Che cos'è questo Un Boh E il panda La puzzola E lo struzzo Ragazzi Quanti ce ne mancano Sono animali Alle pistole Ragazzi Quanti animali Che dovevo andare A comprare E Vabbè Vabbè Le uova Sono quasi Fini Sono finite Dobbiamo aspettare Ragazzi Noi ci mettiamo Con il prossimo video Ciao Ciao E volevo dirvi Anche una cosa Che Comunque Se in questi giorni Non stanno scendo video Cotto a me Perché Diciamo che Oggi Non sono riuscita Cioè Non sto Non sto riuscendo A fare Molto spesso I video Ma Oh mio dio Cosa sono tutte Queste persone Vabbè Non riesco a fare Troppi video Con Tommy Però Ragazzi Già È una fortuna Che Almeno un video Al giorno Lo riesco a fare Perché Non ne riesco a fare Tanti Prima di concludere Una cassa Vediamo cosa ci esce Che cos'è questo Divento VIP VIP 30 minuti Che è Twice Number Of Reward Reward Un'altra No No Io non spendo Le mie gemme Che c'è Ne ho 84 Comunque Ragazzi Alla prossima volta Ciao Ciao